In collaborazione con Coop Superstore Conviene E aiuta a crescere i vostri bambini L'ulivo è una pianta che viene coltivata anche nel nostro territorio fin dall'antichità La zona del Garda Trentino, le colline quindi che circondano Riva, Arco, Torbole, Nago, Tenno e Dro È una delle più settentrionali d'Europa per la coltivazione di questa pianta Palazzo Rocca Bruna che ci ospita oggi è il luogo ideale dove parlare dell'olio che si ricava da questi alberi L'olio extravergine del Garda Trentino DOP Da noi le olive vengono raccolte dai primi giorni di novembre fino a gennaio inoltrato Quindi vengono spremuti a freddo ancora fresche L'olio del Garda Trentino ha un colore verde oro e un profumo di erba e frutta Il sapore poi è leggermente piccante e dolce Stupendo con le verdure e il pesce Guardate un po' cosa stanno confabulando Dina la contadina e i suoi amici Però dovete sentire che buono che è il pan con l'olio Lo assaggiamo? Vediamo adesso un pochettino Facciamo questa magicheria Wow, guardate che sembra oro che scende Allora, guardate che sembra oro che scende